Trentunesima, tutta da vivere, il turno in frasettimanale promette scintille e sorprese la ternana Valbonolis di Teramo. Il successo dal sapore di B contro il Bari ha caricato le fere di Lucarelli che in casa degli abruzzesi di Paci, reduci dal blitz di Catania, non avranno vita facile. Umbri favoriti, malensidie, sono sempre dietro l'angolo. Spauraccio casertana per il Bari al San Nicola. I galletti devono riprendere la marcia di avvicinamento ai lupi irpini per il secondo posto. Dall'altra parte, i falchetti di guidi non sono nuovi alle imprese, vedi la roboante vittoria in casa del Catanzaro. Carrera cede ai suoi vittorie e prestazione. Al Rocchi, la Viterbesa, la Juve e Stabbia daranno vita ad un match senza esclusione di colpi. I laziali di Taurino, dopo il turno di riposo, sperano ancora nell'aggancio alla zona play-off. Le vespe di Padalino, dopo aver travolto la Turris, vanno all'inseguimento del quarto posto del Catanzaro. Al Ventura, match da brevi di nottica salvezza per Biceglie e Paganese, in rostellati di Papagni, sognano il sorpasso definitivo sui campani e sono eccitati dopo il colpaccio di Caserta. Gli azzurro stellati di Lello di Napoli, invece, dopo due sconfitte di fila contro Avelino e Palermo, non possono più sbagliare. Alle guori, Tana della Turris, arriva il Catania di Raffaele. In crisi, Catania, che ha racimolato cinque punti nelle ultime partite. La panchina dell'ex potenza potrebbe essere messa in discussione in caso di un nuovo KO in terra partenopea. Caneo vuole riconquistare i tifosi delusi post-Castellammare. L'unico derby si gioca a Francavilla tra la Virtus di Trocini e il Foggia di Marchionni. in palio punti salvezza per i padroni di casa, che devono ribaltare il trend negativo e punti play-off per i satanelli, carichi dopo le belle vittorie di Torre del Greco prima e dello Zaccheria poi contro la Cavese. Cavese che ha rinviato il match del Simonetta Lamberti contro il Catanzaro dopo la morte di mister Antonio Manacore, portato via ieri dal Covid.